Nella carriera di un ragazzo, di un corridore, insomma, quello che conta soprattutto è di sbagliare meno. Quindi, quelli che sbagliano meno sono quelli che vanno più lontani. Prima cosa, gli allenamenti. Bisogna imparare, soprattutto andare in bicicletta, cercare di farli bene, di farli, insomma, gradatamente. Sicuramente, secondo poi, naturalmente, anche quei consigli che potete ricevere ognuno nelle vostre regioni o da qualcuno che avete fiducia. Bisogna sacrificarsi molto. Penso che il sacrificio e la passione sia una parte determinante. Forse più delle qualità stesse che uno possa avere. Bisogna perseverare, perché ci sono dei momenti duri. Anch'io nella mia carriera ne ho avuti tanti, ho avuto molti incidenti e mi sono sempre ripreso, grazie soprattutto, penso, alla passione e oltre alle qualità che posso avere io.